ricordate quando giocavamo tutto il pomeriggio a pallone e da una parte c'erano le mamme e poi arrivava quel momento magico sto parlando della merenda dove trovavamo quella merendina del cazzo e poi lui il succo di frutta buonissimo ti rimetteva in sesto e ricominciavi a giocare a pallone ho avuto la maloguata idea di comprarmene uno per riprovare quell'emozione ma c'è qualcosa che non va ho trovato questa la cannuccia non è più di plastica è di cartone certo per la natura un bambino dopo un minuto c'ha una pappa in bocca e non riesce a finire il suo succo traditori ora io vorrei rivolgermi a quel testa di cazzo che ha avuto quest'idea ti direi che vorrei infilartela su per il culo ma la punizione sarebbe minima visto che è di cartone allora la gettiamo e ne ho giusto una per te quattro volte di diametro in ghisa cosa vuoi Batman pipistrello di merda